L'obiettivo è quello di favorire la comunicazione e una comunicazione che abbia come finalità quello di far conoscere di più e crescere nella comunione. Ritengo sia uno strumento molto utile, dal momento che si dispone di questi mezzi non potevamo prevarci. Anche quello è un modo di comunicare, la Chiesa Siracusana lo fa o prova a farlo in modo responsabile così come ci vive da Papa Francesco e è anche necessario che oltre ad avere un sito nuovo, un vero portale della Chiesa Siracusana aggiornato, abbia anche una presenza sui social network.